Pubblicato un bando speciale per l'assegnazione di 55 alloggi per i residenti nei campi container di Cava dei Tireni, ma in particolare per una categoria specifica alla quale ha pensato l'amministrazione comunale. Lo chiediamo all'assessore, al patrimonio del Comune di Cava dei Tireni, l'avvocato Vincenzo Landolfi. Sì, in effetti è un risultato cui l'amministrazione Calda e il sindaco in particolare tenevano molto e finalmente siamo riusciti a risolvere questo problema che vedeva penalizzate persone, diciamo, ingiustamente. In buona sostanza si tratta della riapertura del bando di assegnazione degli alloggi per coloro che avevano diritto all'assegnazione alla data del 6 luglio 2004. In effetti all'epoca venne formata una graduatoria per l'assegnazione di 361 alloggi. Alcune domande, in particolare 55, vennero escluse per vizi formali, per irregolarità, diciamo, materiali nella redazione della domanda, per cui questa penalizzazione ci sembrava ingiusta ed eccessiva rispetto appunto a un diritto sacrosanto delle persone che sostanzialmente avevano i requisiti per l'assegnazione. Dunque un altro tassello importante è un risultato appunto ambito dall'amministrazione Calde, siamo riusciti a raggiungerlo. Speriamo poi di continuare su questa strada per quanto riguarda le altre successive future costruzioni di alloggi da assegnare alle persone che ne hanno bisogno. E allora anche per questo capitolo diamo un po' di informazioni. A breve ci sarà un altro bando specifico per quelle persone, per quelle famiglie che al momento non rientrano nemmeno in questa, definiamo così, sanatoria del nuovo bando. Sì, in effetti dovrebbe partire ad aprile il bando per l'assegnazione di alloggi ERP per le famiglie che hanno i requisiti, ovviamente che potranno presentare la domanda nei termini stabiliti poi dal bando. In effetti si tratta proprio di nuovi alloggi che verranno concessi a persone che ne hanno bisogno in base alle domande che verranno presentate. Il numero sarà, diciamo, quello degli alloggi disponibili sul territorio che non dovrebbe essere inferiore alla Trentina, credo. Poi ovviamente salvo migliore verifica specifica, ecco. Ormai quasi arrivato al suo traguardo anche il capitolo legato alla consegna degli alloggi di Santa Lucia e di Pregiato, quelli che si sono completati in corso d'opera. Sì, finalmente anche qui raggiungiamo un traguardo importante. È fissata per i giorni 26, 27 e 28 febbraio la convocazione delle famiglie di Santa Lucia che avranno diritto all'assegnazione degli alloggi, quindi ci sarà la firma dei contratti, poi la consegna materiale degli alloggi avverrà, diciamo, entro qualche settimana a decorrere dalla stipula del contratto, ma in realtà è cosa fatto, quindi siamo molto soddisfatti anche per quest'altro risultato raggiunto dall'amministrazione.